Altra impresa, l'ennesima senza pezzi pregiati, Cantagalli out, Simone impiegato solo in avvio di un assieco che vendica l'andata e batte 3-1 a destinazione il temibile Santa Croce sull'Arno, ora è quarta, ma domani avrà un altro recupero interno col Taranto, scontro diretto che con un successo consentirebbe agli ortonesi di piazzarsi al solitario secondo posto con l'ultimo turno della stagione regolare di nuovo in casa contro l'abordabile Castellana Grotte domenica 21, squadra incredibile. Torna a vincere pursi a fatiche al tiebreak ma con merito un ritrovato a Bapineto che tuttavia dovrà accontentarsi, tranne clamorose sorprese del quarto posto, l'importante era vincere per ritrovare la spinta giusta, mister Rosichini. Assolutamente sì, soprattutto dopo una partita che si è evoluta in questa maniera, averla portata a casa chiaramente ci dà convinzione dei nostri mezzi. Sabato anticipo senza rischi ad Acicastello, in B torna a giocare e a vincere al tiebreak l'alba adriatica mentre cade in casa contro il forte Molfetto un dignitoso Paglieta. In B1 femminile, altro pesante cappò dell'altino sul campo del Casal dei Pazzi, mentre finalmente sordisce e vince largamente 3-1 sul Trevi, il sestetto di Chieti del tecnico Nibbio, gran voglia di giocare, vittoria purificatrice nelle immagini. E a proposito di immagini in B2, altro derby, altra corsa di una Rabona che insegue l'inarrestabile capolista Porto Sant'Elpidio che liquida le terramane dell'impianti Futura. Le manopellesi battono 3-1 alle cugine del Pescara 3, in un match avvincente dove le ragazze di Mazzucato, tra le quali esordito la Montanaro, hanno ben figurato, confermando un evidente processo di crescita. Quelle di Cesarone sono da tempo col vento in poppa.